Ora Porracchia, nuovo sindaco di De Monte, come commenta questa elezione? Devo dire che per me in parte è una sorpresa e in parte è una cosa che mi aspettavo, perché comunque chiedevano un cambiamento e il cambiamento c'è stato. Io spero di essere all'altezza, spero di mantenere tutti i promessi che ho fatto, e vorrei veramente ringraziare tutti quelli che hanno avuto fiducia in me e in tutta la nostra scuola. Però vorrei dire che non sono il sindaco di chi mi ha votato, ma sarò il sindaco di tutti. Quali le sue priorità, sindaco? Priorità è quella che io ho già detto, è una campagna elettorale, per me è una casa di riposo per gli anziani e poi ci sono tantissime altre priorità, però comunque la priorità principale è di cercare di migliorare il nostro paese, di renderlo più umile, più pulito, e quindi metteremo tutto il nostro paese. Questo è poco così, scusate se non le tenete buzzerate, ma non le sento comunque.